Mi chiamo Marina, una buona giornata nel Signore a tutti quanti. Vi mando questo vocale per farvi sapere quanto è grande Dio, anche se sappiamo tutto quello che ha creato è tutto nelle sue mani, ha creato l'uomo, tutto ha creato Dio in una maniera così perfetta e meravigliosa come Lui è. Io ho perso mio marito il 15 del mese scorso e ho sofferto tanto. Ho sofferto per la sua lunga malattia, due anni prima si è ammalato, l'ultimo anno è stato allettato, è stato ricoverato in una clinica, l'abbiamo assistito dalla mattina alla sera, è stato assistito molto bene, però è poi andato con il Signore. Non vi posso dire, fratelli e sorelle, che fisicamente stavo bene, oltre alla mancanza di un caro, e non mi sentivo bene neanche fisicamente. Avevo dei strani sintomi, anche un po' d'ansia e delle paure. All'improvviso mi sono trovata un'altra persona, che io non sono così, perché io conosco il Signore da tanti anni, e il Signore mi ha liberato da tutte queste cose, ma purtroppo la situazione di mio marito mi ha lasciato questo. Ma io non ho mollato, perché so chi è il Dio, lo conosco, so chi è Lui, che in passato, tanti anni fa, mi ha tolto l'angoscia, mi ha messo la gioia della sua presenza, mi ha messo la pace, e non potevo pensare che, dopo tutto quello che ho sofferto, riprovassi un po' di queste cose, non più come prima, però un pochino ce l'avevo, lievi. Vi mando questo vocale per le persone che stanno soffrendo in questo momento, per dirvi che, fadivi animo, andate avanti, pregate il Signore come ho fatto io, mi sono messa in ginocchio e ho pregato, ma ho pregato tanto, perché avevo bisogno, e soltanto Lui mi poteva liberare, perché se vai dai medici, la prima cosa che ti danno, ho pasticche, ho gocce, ho gocce per rilassarti, ma io volevo la mano potente dell'Onnipotente, perché la conoscevo già, e mi sono messa in ginocchio e ho cominciato a dire, Signore aiutami, so che mi stai ascoltando, perché Dio è Onnipotente, Onnipresente, Onnipotente, Onnisciente e Onnipresente, è ovunque, è da me e ovunque. Molto spesso lo facciamo piccolo è Dio, perché non gli diamo l'importanza che Lui è. Leggevo la Bibbia, leggo, ancora oggi sempre, tutti i giorni della mia vita, leggerò la Bibbia, mi confrontavo con la Bibbia se io mi ci trovavo, perché la Bibbia è la stessa, Dio è lo stesso, ieri e oggi in eterno, non è cambiato, gli uomini cambiano, ma Dio no. e pregavo, pregato, ho pregato tanto e prego ancora. Anche la mia famiglia mi ha aiutato nella preghiera, che è molto importante, e la mia comunità è che è molto importante. L'unione fa la forza, mai stare da soli, se si ha una comunità di andare e non guardare né a destra né a sinistra, ma guardare la perfezione di Gesù Cristo. Se guardiamo in terra, vediamo tante cose che la nostra mente ci dice che non sono esatte, perché lavora molto la mente. La mente l'ho messa sotto il sangue di Gesù Cristo, perché la mente mi diceva che ero malata, che non guarivo, che ora mai era finita per me la vita sulla terra, infatti non avevo più gioia, pur essendo una donna piena di gioia, perché il mio carattere è gioioso, e invece il Signore mi ha liberata. mi ha liberata da tutto questo, e per questo ho fatto questo vocale, per le persone che si trovano come io mi sono trovata, per la perdita di un caro. Ho perso anche in passato altre persone, mia mamma e mio papà, che mi hanno lasciato qualcosa di vuoto, diciamo così, perché ti mancano sempre, quando le ami è così, ma il Dio mi ha dato la forza, ero più giovane, adesso sono più grande, quindi ho faticato di più, perché più si è grande, più si fatica. e quindi niente, adesso sono libera, e mi pare strano che il 15 del mese scorso, ho perso il mio marito, e oggi posso dire che ho gioia, ma gioia non perché ho perso il mio marito, la gioia della presenza di Dio, che mi sta dando la forza di vivere, e so che mio marito sta con il Signore, sta in cielo, perché io credo in questo, perché credo nella sua parola, mi sta dando tanta gioia, tanta forza, sto riprendendo a rivivere, e tutto questo non lo poteva fare un uomo, solo il Dio lo può fare, per questo manderò questo vocale su Facebook, su WhatsApp, per dire a tutti quelli che si trovano, e si trovano nella mia situazione di prima, di pregare il Signore, di credere nel Signore, che ci ascolta, molto spesso pensiamo che non ci ascolta, tanti pensieri ci vengono nella mente, che sono tutti sbagliati, confrontiamoci con la parola di Dio, che ci dice che Dio ci ascolta sempre, tramite il suo figlio Gesù Cristo, ovviamente, dobbiamo pregare tutti i giorni, è un piacere pregare, perché quando ami Dio lo fai con gioia, è un piacere leggere la parola di Dio, perché sai che è Dio che ti parla, e alla fine ecco la libertà, la liberazione totale delle paure, delle ansietà, e con il Signore si stanno sereni, perché Dio si fa chiamare Padre, attraverso chi? Suo figlio Gesù Cristo che è morto sul Calvario, quel suo sangue prezioso, possiamo andare a Dio, e chiamarlo Padre, ovviamente andiamo a Dio tramite Gesù Cristo, quando preghiamo, te lo chiedo nel nome di Gesù Cristo Padre, aiutami, leggiamo la sua parola, e Dio ti toglierà tutte le ansie, tutte le paure, e tutte le cose negative, che la mente ti dice, che non è da parte di Dio, e ti mette la gioia, la pace, la serenità, che Dio vi benedica a tutti quanti, e addio sia la gloria.